E' un onore per Milano che questo viaggio che porterà la carta originale in 12 città parta da Milano. Il viaggio della Costituzione, a cui oggi si dà il via, durerà 12 mesi e attraverserà l'intera penisola. La Costituzione è un festo vivo. E' vivo perché i suoi principi fondamentali sono scolpiti. Quei primi 12 articoli esprimono in una sintesi mirabile tutti i valori fondativi della Repubblica. Democrazia, libertà, uguaglianza, diritto al lavoro, rispetto delle minoranze, pace, valore della ricerca e della cultura, accoglienza, sono principi inalterabili. Si è consolidata certamente la consapevolezza della intangibilità, in particolare della sua prima parte. Gli articoli stupefacenti si leggono facilmente, rapidamente, danno il quadro di un grande paese dopo 70 anni. A distanza di 70 anni la Costituzione parla ancora a noi. Io credo che se i giovani li portiamo a questa realtà, ad una realtà dei principi fondanti, l'uguaglianza, il lavoro, un quadro assolutamente democratico, credo che forse ci credano ancora di più. Convinti che l'omaggio alla nostra Costituzione ci aiuterà a capire sempre meglio la forza della democrazia e della libertà. E quindi buon viaggio e viva la nostra Costituzione!